Adesso noi cambiamo radicalmente argomento e passiamo a un'altra area di interesse di cui in realtà abbiamo parlato molto spesso a Next Generation, cioè la letteratura. Oggi è qui con noi per parlarci del suo ultimo romanzo appena uscito in libreria, il romanzo che si chiama Origami, pubblicato da Campanotto Editore, l'autrice Sabatina Napolitano. Buonasera Sabatina e grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi oggi. Ciao, grazie a tutti. Sabatina, il titolo del tuo romanzo è veramente particolare e fa riferimento a qualcosa che accade nel libro, oltre a essere il nome del giornale per cui scrive la sua protagonista Olga e fa riferimento anche a qualcosa che accade nella sua vita e in particolare a una storia raccontata dal nonno. Vuoi raccontare qualcosa di più ai nostri spettatori? Sì, in realtà, come già ho detto in altri video che sto piano piano pubblicando per presentare il romanzo, che è questo, Origami. La trama si svolge intorno a una famiglia, una famiglia particolare che ha dei tratti fantastici in dei punti. E appunto si chiama Origami anche perché la giovane protagonista, Olga, resta presto orfana dei genitori ed è invitata ed è sollecitata dalla nonna a scrivere dei sogni su dei fogli di origami che il nonno poi avrebbe lasciato in un fiume simbolicamente per far volare i sogni della nipote e per innestarle l'amore della cultura, della lettura e della letteratura perché questo è il fine anche del romanzo. Diciamo che la protagonista, come dicevi tu, è immessa nel mondo della letteratura perché appunto è anche una giornalista e una bibliotecaria. E a questo punto io ti faccio una domanda un po' particolare, la cui risposta in realtà c'è anche nel romanzo, ma che ovviamente i nostri spettatori ancora non conoscono essendo appena uscito nelle librerie. E cioè, qual è il libro preferito di Olga? E poi dopo ti chiedo anche qual è il tuo libro preferito. Sì, grazie. È una domanda molto particolare perché il romanzo è intriso di particolarismi, di richiami. In ogni caso, Olga entra nella biblioteca che di fatto è la biblioteca gestita dai nonni, cresce in questa biblioteca, fin tanto che prende il posto della nonna. Prende il posto della nonna e quindi sviluppa la sua vita, sia professionale che interiore, all'interno di questa biblioteca che è la biblioteca di Itaco, è un luogo immaginario che però rappresenta un po' tutte le città. Ecco, al modo di Borges, anche Itaco rappresenta un mondo fantastico che però è popolato di realtà contemporanee, quindi che è inserito nel mondo contemporaneo. Non si sa bene che zona del mondo è Itaco, però di certo si sa che è nel continente ed è vicino alla Francia meridionale o è raggiungibile dall'America, quindi è una città che rappresenta tutte le città, ma al modo di Borges rappresenta anche una città fantastica. E proprio per questo Olga cerca, per le prime volte che entra nella biblioteca di Itaco, e cerca il libro di sabbia di Borges, la stessa cosa, la stessa passione per Borges la ha il marito, Gustavo, e anche il figlio ha la passione per Borges. Tutti i miso hanno questa passione fervente per Borges, non a caso nel libro di sabbia ci sono vari racconti che parlano di libri, basti pensare anche alla biblioteca di Babele, il tema Borges dei libri, anche del doppio, anche dello specchio, è presente in dei punti, in origami. Diciamo che ti è stato d'ispirazione sicuramente questo romanzo. Sì, anche in Ellen, che è un personaggio di cui non ho ancora parlato, ed è la prima volta che ne parlo, Ellen prenderà nella biblioteca il posto di Olga, e anche Ellen è amante di Borges, lei è una studiosa di gialli, ed è una specializzata in libri gialli, e vedremo che poi prenderà il posto della biblioteca e appunto farà anche lei la sua storia all'interno di questa biblioteca che è moderna, che è associata anche all'Università di Itaque 3, che è un'università privata e pubblica che c'è ad Itaque. È una biblioteca moderna, però all'interno è gotica, su tre piani, ospita tantissimi volumi ed è un po' una biblioteca al modo di Borges. Sì, sei sicuramente dedicata moltissimo alla ricerca dell'ambientazione, a creare questa ambientazione che ha tanti particolari. Itaque si sviluppa intorno a una laguna, c'è una laguna, c'è uno spazio lagunare, e poi sorge questo borgo grande, diviso in parte da un fiume, da dei campi, dove appunto il centro della città è proprio la biblioteca di Itaque. E' un borgo particolare perché il centro è culturale. C'è questa piazza che è Piazza Fontana, dove appunto si incontrano i miso, e dalla Piazza Fontana parte tutta la storia. Ma quanto tempo è impiegato a creare questo universo così dettagliato? Quanto tempo è impiegato a scrivere origami? Allora, io come tu sai vengo dalla poesia, quindi ho sempre scritto libri di poesia. Dal 2019 ho cominciato con la critica, più o meno attivamente a pubblicare proprio recensioni, scritti critici di altri autori. Chiaramente dopo aver studiato diversi, aver passato diverse notti veramente immersa in qualsiasi libro possibile, soprattutto di critica, e dopo essermi sentita matura da questo punto di vista, mi sono detta che era il momento di pubblicare per la narrativa, di pubblicare il romanzo. Avevo sempre avuto l'idea di questo romanzo, da quando ero abbastanza giovane, a 14 anni ho cominciato a scrivere su Splinter. Non so se tu conoscivi. Sì, 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 ricordo, ricordo. Io andavo all'università, andavo al Genovesi, tornavo, al liceo classico a Napoli, tornavo e mi mettevo a scrivere su questo blog. Sì, avevo già ipotizzato di voler scrivere veramente a 14 anni questo romanzo, un romanzo su una grossa biblioteca, su una bibliotecaia. Mi piaceva tantissimo, al modo di Borges. Mi piaceva tantissimo e l'idea mi ha sempre rincorsa. Fin tanto che poi mi sono convinta per la maturazione che sentivo nella penna. Ma quindi quando è che ti sei accorta di voler fare la scrittirice da grande? A 14 anni o anche prima? Ma io penso che nessuno di senno si augura di fare lo scrittore, con le cifre che si guadagnano con ogni libro. Nessuno di sé non lo fa. Lo si fa perché si sente una chiamata, si sente una vocazione a farlo. La vita ti mette in delle condizioni per cui tu diventi uno scrittore, fai lo scrittore. A volte, anche per vie trasversali, per caso, credo che nessuno volontaristicamente si mette e diventa uno scrittore perché ha deciso di fare lo scrittore. Lo può dire dopo che magari ha avuto un grosso successo il libro, o magari i riscontri sono stati talmente positivi che decide di fare lo scrittore. Io scrivo, scrivo di critica, scrivo articoli. Il romanzo credo sia un processo naturale anche della maturazione di uno spirito creativo. È un processo naturale perché dopo che per tanti anni scrivi libri di poesia e scrivi articoli e hai contatti con tanti autori, la poesia smette di assurgere al suo ruolo anche narrativo. C'è bisogno di un durare, c'è bisogno di un'esperienza maggiore di dialogo che sconfina nei territori del romanzo. Il romanzo, teoricamente, è anche il superamento della poesia, il limite della poesia. Nel tuo romanzo in particolare si traspare questo amore per la poesia e in realtà tu affronti tante tematiche diverse, affronti la maturazione della protagonista perché un po' è un romanzo di formazione, la malattia, le dipendenze, arrivi addirittura a citare Medici Senza Frontiere. Insomma, tocchi davvero tantissimi argomenti. Ma alla fine qual è il messaggio che volevi comunicare? Quando è concluso la stesura di Origami, cosa pensavi di voler far trovare tra le sue pagine al lettore? Allora, nel libro, ieri ho scritto anche a un autore che parlava appunto del fine del romanzo, il fine della letteratura. Solitamente io non sono convinta dell'arte per l'arte, non sono convinta che un'opera d'arte sia paragonabile a un romanzo, sono convinta invece che il romanzo oltre ad essere bello, quindi ad intrattenere, deve avere un senso, deve avere un significato. Io ho parlato in questo romanzo di tanti temi, abbastanza seri e importanti, perché proprio mi sono posta il problema di dare un senso alle pagine, di dare un senso, una comunicazione al lettore. Se io avessi chiuso la narrazione in un unico fatto di cronaca, mi sarei persa e preclusa la possibilità di parlare di più fatti di cronaca. Ecco, nella cittadina di Taque avvengono più fatti di cronaca. Se nei mondi di Borges vediamo cose del tutto immaginarie, persone che mangiano serpenti o comunque personaggi che veramente non esisterebbero mai nella contemporaneità e non potremmo mai incontrare, In realtà sono abbastanza convinta che ci siano persone che mangiano serpenti da qualche parte sulla terra. Sì, probabilmente per un'usanza. In ogni caso il mondo fantastico di Borges non è per nulla rappresentabile in quello di origami, perché in origami tutto è vero, tutto è imitazione del vero. Tutto è realistico, insomma. Tutto è realistico. Sì, è imitazione del vero, ma proprio perché il romanzo si pone il motivo di comunicare un senso, oltre alla bellezza dello stile. Non è solo un intrattenere, ma è un riflettere. È un riflettere sulle tematiche che tu hai posto in essere, che tu hai ricitato, però è un riflettere su più tematiche di cronaca. Quindi anche, sì, l'orfanotrofio di Itague, le vittime, questi bambini che sono vittime del terrorismo, quindi vengono accolti nell'orfanotrofio di Itague. Poi c'è la depressione, la tematica della depressione, la tematica anche del tumore, di una donna che affronta il tumore. Le tematiche importanti devono esserci, secondo me, in un romanzo. Un romanzo è giusto che non solo intrattenga, ma che dia motivo di riflessione, motivo di sentire, motivo di interesse. Ma quindi, a questo punto, a chi consiglieresti origami, e se c'è una categoria, a chi lo sconsiglieresti invece? Io lo consiglio sempre a chi ama Nabokov per lo stile, a chi ama Virginia Woolf, a chi ama la letteratura, perché questo romanzo cita molta letteratura delle biblioteche, molta, è intriso di letteratura, e quindi chi ama la lettura e le biblioteche non può fare a meno di leggere questo romanzo, veramente, lo consiglio, è intriso di letteratura. E poi, in generale, per chi ama i triangoli amorosi, il tema del doppio, è anche in dei punti un romanzo divertente, divertente nello snodo del personaggio di Olga, che appunto lei ama Gustavo. Gustavo è un uomo, è un editore, è un giornalista molto caldo, però lei si rifugia in degli spazi interiori in cui vede questa amica e questo amante che le suggeriscono a volte degli atti non proprio legali o non proprio consoni. Dove e come è possibile leggere il tuo romanzo? Dove è possibile acquistarlo? Allora, siccome è uscito da poco il romanzo, stamattina parlavo anche con un altro autore, il romanzo è reperibile sui siti come IBS, come libreria universitaria, ci sono vari siti che fanno fluire il romanzo online, però le librerie mi stanno contattando, che stanno prendendo le copie di origami, quindi potete andare benissimo anche nella vostra libreria e chiederlo se non l'ha già. Siccome sono i primi tempi, si sta smistando il libro, si sta smistando ma è possibile reperirlo. Non è ancora su Amazon, ma lo sarà tra breve ed è facilmente acquistabile su tutti gli store online, su Mondadori, su Fertrinelli, perché mi stanno chiamando le mie amiche da ogni parte d'Italia a dire che l'hanno acquistato così. Vabbè, diciamo che è appena uscito, magari siamo stati anche i primi a intervistarti e quindi siamo in una fase precoce. Sì, infatti sono stata veramente molto contenta e vi auguro un buon Natale, sia perché per il vostro sito ci tengo particolarmente e saluto tutti e ringrazio tutti di questa occasione e sia perché per questi santi giorni così abbiamo l'opportunità di farci gli auguri. Anche io ti auguro buone feste sabbatine e ti ringrazio per essere stata qui con noi e per aver parlato del tuo ultimo libro che ricordo chiamarsi Origami ed essere stato pubblicato da Campanotto Editore. Grazie ancora e buone feste. Buone feste anche a tutti i nostri web spettatori e noi ci rivediamo mercoledì prossimo per un'altra puntata di Next Generation. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti